Poi li contasse fuori verso l'Enaia, e alzate le mani, li benedissero. Mentre li benedicevano, si staccò da loro, e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostavano davanti a loro. Poi tornarono a Giorosavelle con grande gioia, e stavano sempre nel Tempio, notando a loro. Verbum Domini, graus in Cristo. Amém. 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 Amém.